Lunedì per la prima volta nella loro storia, Regno Unito e Francia hanno unito simbolicamente le loro truppe nei cambi di guardia di Buckingham Palace e dell'Eliseo. Le due cerimonie sono state organizzate per celebrare il 120esimo anniversario dell'Antet Cordial, l'accordo diplomatico del 1904 tra Londra e Parigi che ha risolto le precedenti controversie e migliorato significativamente le relazioni tra i due paesi, aprendo la strada alla loro alleanza nella prima e nella seconda guerra mondiale. I leader dei due paesi, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro Rishi Sunak non si sono incontrati dal vivo ma hanno parlato in videoconferenza discutendo di relazioni bilaterali. Grazie. Grazie. Grazie.